Finisco di mangiare la peperonata e scendo. Alle 8 del mattino. Più di un roburio. Cos'è? L'inserto di Repubblica? Più di un'opera d'arte. 170 milioni. Ma guarda che il mio falegname con 30 mila lire la fa meno. Più di una storia d'amore. Siamo Cimita quanto mi pare piace. E Giacomino si sposa. Così domani ti sposi. Sì, ma niente di sera. Un cult della risata. Alla vada, un'asciugata la perna un cadduperà. Aldo, Giovanni e Giacomo. Tre uomini e una gamba. Lunedì 21 e 20 Italia.